Comunque sì, hai proprio ragione. Sì, lo so. Curiosità, ti piace questo caffè? No, chiedo, perché è nuovo e volevo una tua opinione. No, sì sì, è buona, è buona, ha un buon gusto. To. Scusa, cos'era questo suono? Quale suono? Mi pare che fosse quello di... Di Mario Kart, quando parte l'ultimo giro, è presente? Ah, sì sì. Domani muori. Ah! In che senso? È una roba introdotta col 5C. No, non ti seguono, no. Quando senti quel suono vuol dire che ti mancano 24 ore di vita. Dai, mo! Ma che cazzo di strozzata è? E sì che puoi firmarti i termini e le condizioni che attivano il suono. Quali condizioni? Ma se non stai attento non è colpa mia. Se tra 24 ore muoio, io ti denuncio. Ora, ripeti questa frase, ma lentamente. se... C. Grazie per la visione!